L'atteso derby del campionato di Serie C di basket viene vinto dall'Amen Scuola Basket Aghezzo capace di violare il parquet del Palamatteotti di Montevarchi grazie a una prestazione corale di ottimo livello. Il 76-65 finale in favore della squadra di coach Di Lìa allunga la striscia vincente degli Amaranto a tre partite e vale un altro mattoncino prezioso in una classifica che rimane molto positiva con il secondo posto. Fin dalle prime battute di gioco la SBA ha messo in campo tanta energia positiva, Ramirez ha spinto sull'acceleratore tenendo un ritmo alto che ha colto un po' di sorpresa alla squadra di casa. L'Amen ha costruito così un parziale a proprio favore che viene mantenuto anche nel secondo quarto quando Castelli colpisce da fuori e Giommetti è molto reattivo sugli scarichi dei compagni. Dall'altra parte il merito di tenere in partita la Fides è della coppia Bonciani, il migliore di Giallo Verdi e Giuliane. Nell'intervallo lungo per Arezzo è sempre in vantaggio 39-32. L'allungo decisivo degli Amaranto avviene nel terzo parziale, l'intensità retina non cala minimamente mentre i padroni di casa faticano a trovare la via del canestro contro la difesa aggressiva e attenta di Arezzo. Con il passare di minuti la distanza tra le due squadre si dilata fino al 61-44 dell'ultimo mini intervallo. Nell'ultimo quarto la squadra di Ottaviani ha una reazione di orgoglio che la riporta fino almeno 10 ma l'Amen è troppo determinata per lasciarsi sorprendere. Dalla lunetta Castelli chiude di fatto la gara che vede Montevarchi diminuire lo svantaggio nell'ultimo minuto fino al 76-65 con cui termina l'incontro. Da sottolineare la prova di squadra dell'Amen che ha avuto quattro giocatori in doppia cifra in fase difensiva ha recuperato tanti palloni che sono risultati determinanti. Ai fini della vittoria, cominciato con il piede giusto e il girone di ritorno, l'Amen adesso dopo due turni esterni tornerà domenica prossima al Palace Porta Estre. Avversario di turno sarà il Meloghi a Livorno, formazione in piena lotta per un posto nei play-off. Una vittoria leggendaria, si può dire da come è stata messa in campo la squadra con l'entusiasmo, con il cuore, come ha detto l'avversario di turno Sereni, quindi una bella partita, non c'è niente da imputare ai nostri ragazzi, anzi da apprezzarli ulteriormente. Sì, dunque io non ho il vizio di, anzi io critico i genitori che dicono che il figlio è bravo insomma, quindi non ho questa nottata. La squadra è stata veramente brava in campo, concentratissimi, bravo l'allenatore che ha messo in campo dei giochi interessanti. Comunque faccio sempre i complimenti alla squadra di Montevarche perché comunque è una squadra fatta di giovani locali, quindi bisogna tanto di cappello a questa squadra. è una partita non maschia, quindi giocata secondo me nei limiti del derby. L'unica cosa che mi dispiace è che personalmente non sono stato trattato molto bene da qualche persona del pubblico, ma stasera un complimento ai ragazzi, veramente bravi, veramente bravi.